Prenderà al via a dicembre la nuova stagione di prosa del Teatro del Giglio. Un programma arricchito, quello presentato oggi pomeriggio, 19 giugno, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Il cartellone è stato costruito raccogliendo i frutti di un costante dialogo con il pubblico, che nella scorsa stagione ha particolarmente apprezzato le proposte, premiandole con migliaia di presenze agli spettacoli e agli incontri con gli attori. Ad entrare nei dettagli della nuova stagione di prosa è il direttore artistico Cataldo Russo. Siamo qui a presentare con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno una stagione teatrale più ricca, nove titoli anziché otto per 27 recite, che vedrà grandi attori, grandi interpreti, grandi temi. Tra gli attori voglio citare il ritorno di Sergio Rubini, che torna al Teatro del Giglio dopo dieci anni, portando il caso Jekyll, un noir thriller che parte dal famoso racconto, la famosa storia di Stevenson, e poi Ambrangiolini, Drusilla, che finalmente quest'anno vedremo in scena al Teatro del Giglio, Silvio Orlando che ritorna qui sul nostro palcoscenico, e grandi storie come Fantozzi, il celebre personaggio di Paolo Villaggio, che finalmente viene portato a teatro da un grande attore come Fantoni in uno spettacolo davvero straordinario.